Volti espressivi, popolani, arrossati dal vino, pronti al riso oppure allo scherno. Sono vividissime le figure di Gerrit van Ontorst, il pittore olandese che nel 1610 arrivò in Italia per studiare il lavoro di Caravaggio e diventò famoso nel nostro paese con il soprannome di Gerardo delle Notti, proprio perché dipingeva scene a lume di candela. La prima mostra dedicata alle sue opere sarà ospitata a Firenze dalla Galleria degli Uffizi dal 10 febbraio al 24 maggio, un'occasione unica per ammirare opere dal tema conviviale come cena con sponsali o buona avventura, ma anche il Cristo davanti a Caifa proveniente dalla National Gallery di Londra o l'Orfeo del Palazzo Reale di Napoli. In Italia si veniva per tante ragioni, a Roma si andava perché c'era l'antichità e non dimentichiamoci c'era Michelangelo, Raffaello e la grande maniera moderna. Però all'inizio del Seicento c'era anche Caravaggio e quindi la maggior parte di questi pittori che venivano dall'estero rimangono folgorati da questa intuizione luministica di Caravaggio e lo seguono. Ecco, Gerardo va a Roma, studia, lavora, lavora molto a Roma, lavora anche per Firenze, però non siamo così sicuri che a Firenze ci sia fisicamente venuto, lavora a Genova, insomma lavora in Italia e poi torna in Olanda, dove declinano i quadri sacri e rimangono invece molto vivi, cospicui i quadri con soggetto profano. In mostra agli uffizi anche l'adorazione dei pastori, la pala d'altare dipinta per la Chiesa di Santa Felicità che fu vittima dell'attentato mafioso agli uffizi del 1993. Proprio questa imponente opera, di cui i restauratori hanno recuperato il possibile, è al centro di un'installazione toccante con un faro che rischiare permette di contemplare volta per volta le figure che si sono salvate dallo scempio. È un'artista molto legata agli uffizi, soprattutto per la tragedia del 1993, come ricorderete quando l'esplosione mafiosa in pratica quasi distrusse la sua monumentale adorazione dei pastori che qui viene ricostruita con un'installazione che consente di apprezzare proprio il prima e il dopo del restauro, naturalmente poi il quadro ormai è quello che è, la tela monumentale è quella che è, ma consente anche di rivivere quella notte spaventosa.